Grazie a tutti. Davide Speziale, centrocapista luparense. Buonasera. Massimo Gianetti, tecnico allievi Elite Albignasego. Buonasera. Vediamo adesso i titoli. Albignasego Corsaro, gran vittoria a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano. Albignasego che continua spedito la sua serie positiva. Vediamo i risultati della sesta giornata del campionato d'eccellenza. Girone A. Belfiorese Abano 3-1. Borgoricco Arcella 2-1. Garda Camisano 1-3. Godigese Albignasego 1-2. Montecchio Maggiore Giorgione 0-2. San Martino Pozzonovo 4-1. Sona Golosine 4-1. Valgattara Castelbaldo Masi 0-1. Grande successo dell'Albignasego. Ne parliamo con Massimo Zanetti che è tecnico dell'Albignasego allievi Elite. Elite sta a significare una selezione dei più validi calciatori della categoria allievi. ma parlando della prima squadra, gran vittoria un po' fortunosa direi, però meritata e l'Albignasego continua a mettere punti. È in serie positiva. Infatti vediamo anche la classifica velocemente. Vediamo la classifica del campionato di eccellenza Girone A. Giorgione 14-14. Castelbaldo Masi, Sona, San Martino e Belfiorese 12. Camisano Albignasego 11-11. Garda, Borgoricco, Montecchio Maggiore e Valgattara 8-8. Abano 6, Godigese e Golosine 4, Arcella 2, Pozzonovo 0. Albignasego che si trova lì a tre punti dalla vetta. Sì, noi siamo contenti anche perché abbiamo ambizione anche per i nostri giovani puntare e arrivare alla prima squadra. Abbiamo due o tre certezze all'interno. La società, che secondo me è una società molto seria, un allenatore molto bravo e preparato. Che è Boscaro e anche un gruppo di ragazzi veramente in gamba. Io ne ho conosciuti qualcuno, sono veramente bravi ragazzi che tra l'altro i giovani che vengono dal settore giovanile si inseriscono con una facilità estrema perché ci sono quelli un po' più anziani che sono veramente dei bravi istruttori. Delle chiocce. E quindi secondo me ci sono una serie di componenti che rendono la squadra, che sta andando anche al di là delle aspettative perché l'obiettivo così della società annunciata era quello di salvarsi. Anche l'anno scorso, parlando con il presidente Fabio Cecchinato che saluto, anche l'anno scorso dovevate salvarvi poi alla fine avete vinto il campionato. Tornando alla partita di ieri, prego la regia di mettere in onda anche qualche highlight. L'Albignan, come dicevamo, ha vinto in maniera un po' fortunosa ma ha vinto meritatamente e vincere così è anche la virtù dei forti, no? Beh, io credo che comunque la sofferenza ci sia in ogni partita. Dopodiché se riesci anche a superarla e vincerla, secondo me è uno stimolo, un'autostima per i ragazzi e per il gruppo insomma molto importante. Ho visto anch'io il filmato di stamattina che il nostro direttore generale manda tutti gli allenatori. Un saluto calorosamente. Che manda ogni lunedì mattina a tutti i nostri tecnici. Questo è il got della Godigese, il got della Godigese di Barichello, che non ha niente a che vedere con l'ex pilota da Ferrari. Eccolo qua. E no, quindi ho visto anche un paio di traverse, però insomma portare a casa tre punti in trasferta secondo me è un'altra cosa. Sì, c'è stata un'occasione dei trevigiani in cui hanno preso due palli consecutivi, però voi non avete perso la calma e avete vinto, lo ribadisco, in maniera un po' fortunosa ma meritata. Vediamo altre immagini. Ecco, mentre scorrono le immagini, tornando all'Albignasico Allievi, all'Albignasico Elite, come sta andando il vostro campionato? Ma siamo a metà classifica. Veniamo da una domenica non felicissima perché siamo andati a giocare a Montecchio, abbiamo perso 3-0. Il risultato darebbe l'impressione che le abbiamo subiti totalmente, invece purtroppo pecchiamo davanti alla porta, nel senso che abbiamo qualche difficoltà a far gol. Però insomma è una squadra che secondo me ha delle potenzialità e che sicuramente durante il campionato potrà fare bene. Chiaramente ci sono anche delle situazioni a volte un po' fortunate, un po' meno, che ti possono dare quei tre punti in più, però insomma bisogna lavorare. E il settore giovanile dell'Albignasico è piuttosto florido, parlavamo prima del settore giovanile dell'Atalanta, che è uno dei migliori in Italia, però anche quello dell'Albignasico, con le dovute proporzioni, è un settore giovanile florido. Sì, in effetti tra l'altro c'è un nostro ex calciatore che allenavo io, che è al Cittadella con il 2004. Che si chiama? Manprin, quindi un altro che adesso ha lo Spezia, quindi insomma voglio dire come settore giovanile. Grandi soddisfazioni, no? Sì, abbiamo adesso, da due anni abbiamo le squadre tutte a livello regionale, che è regionale sperimentale, regionale elite, quindi insomma stiamo crescendo molto. Ecco, questo è il pareggio, il pareggio di Jimmy Fortini, no? Il capitano. Che è un difessore, sì. Sì. Noi lo chiamiamo Godin perché assomiglia molto a... Sì, anche fisicamente. Esatto. Questo è il pareggio di Jimmy Fortini. Poi c'è l'occasione in cui la Godigese ha colpito i due pali, ma voi non vi siete scoraggiati, anzi avete trovato il guizzo per la vittoria. Vediamo ancora le immagini. Dicevamo un settore giovanile in cui la società investe parecchio. Sì, investe parecchio, facciamo selezione, cerchiamo giocatori che abbiano voglia, bravi ragazzi principalmente, che abbiano voglia di crescere e allenarsi con serietà e che abbiano degli obiettivi di un certo tipo. Dopo, tra l'altro, la nostra società sta facendo anche uno sforzo bellissimo dal mio punto di vista che ho seguito l'anno scorso. Stiamo facendo una collaborazione con lo Sport 21, che è una squadra di calcio di ragazzi disabili che hanno delle difficoltà cognitive. Infatti so, mi hanno detto giustamente che tu sei molto impegnato anche nel sociale. Sì, perché a parte questo faccio anche il clown in ospedale. Addirittura. Sì. Però ecco, questa cosa qui che ha fatto la Bignasa del Calcio, secondo me è bellissima, perché abbiamo fatto una specie di attività integrata tra noi, normodotati, ragazzi con disabilità, e sta venendo fuori una cosa meravigliosa, siamo stati ospiti anche a Coverciano, a giugno. Penso che siamo un fiore all'occhiello proprio a livello regionale, ma anche nazionale, perché siamo riusciti a far crescere questi ragazzi dello Sport 21, che sono diventati campioni italiani, tra l'altro di calcio, quindi per noi è un grosso orgoglio, insomma. E sta facendo maturare anche i nostri ragazzi, perché è un grosso segnale. Eh beh, certo. Vediamo tra poco il gol della vittoria. Questa è una grande parata di Ballini, il portiere dell'Albignasico, e tra poco dovrebbe arrivare il gol della vittoria Granata, l'Albignasico ha gli stessi colori della Cittadella, anche se Mora, quest'anno la vostra maglia mi sembra un po' più amaranto. Non so perché, ma... Per carità sarà il marketing, ma mi sembra più amaranto come colore. Vediamo il gol della vittoria albignasica, mi sembra che l'azione sia questa, gol segnato da Atimi, giusto? Sì. Eccolo qua, mi sembra che sia questo un po'... No, forse no, forse... No, questo era un impallo. No, forse il prossimo, un po' fortunoso, però ragazzi, lo ribadisco. Quando si vincono partite così, vuol dire che la fortuna aiuta gli audaci. Eccoli qua, eccolo, questo è il gol. Secondo i giocatori della Godigese era posizione di fuori gioco, non è stato, dello stesso avviso, l'arbitro in collaborazione con il guardialino. E poi è arrivato il gol della vittoria di Atimi Abdelian. Benissimo. Vediamo di nuovo la classifica, perché lo ribadisco, è un girone schiacciato a livello di graduatori. No, abbiamo il Giorgione in testa, vota 14, il Castelbadomasi, Sona, San Martino e Belfiorese 12. Belfiorese è l'unica squadra che ha battuto da Vignasico. Sì, esatto. A quanto pare in maniera non meritata. E poi abbiamo al Vignasico e Camisano 11. Più indietro tutte le altre, l'unica che sembra oramai arrancare è il Pozzonovo. Labano, salutiamo gli amici apponesi che ci seguono, sta attraversando un periodo un po' così. Però l'Albignasico sta facendo della serie positiva, praticamente ha perso soltanto la prima partita, poi ha annellato soltanto punti, sta facendo questa serie positiva la sua forza. Vediamo anche il prossimo turno del campionato di eccellenza veneta Gironia. Abano, Sona, Albignasego, Montecchio Maggiore, Arcella, Belfiorese, Castelbadomasi, Borgo Ricco, Camisano, Valgatara, Giorgione, Garda, Puzzo Novo, Godigese, Golosine, San Martino. Montecchio Maggiore, che è la squadra che vi ha battuto a livello di allievi elite. Aspettiamo una rivincita. Guarda a caso che coincidenza. Come vedi questo match? Ma intanto io sono andato a giocare a Montecchio, hanno una struttura tra l'altro molto bella, e ho parlato un attimo con i responsabili del settore giovanile, sono molto anche loro organizzati, e molto ben forniti a livello di settore giovanile. La prima squadra è stata costruita per vincere il campionato, insieme al Castelbadomasi, dai nomi che si vedono, quindi sarà sicuramente una partita bella, e secondo me sarà un test molto importante per i ragazzi nostri dell'Albignasico, anche per valutare il loro livello di... Quindi il pubblico è chiamato a gran voce allo stadio Montagna, e nel caso in cui l'Albignasico dovesse vincere, spicherebbe il volo verso i quartieri veramente altissimi della graduatoria. Stanno arrivando anche messaggi, l'indirizzo della luparese, tra poco finalmente parleremo anche dei lupi, e dei leoni chioggiotti. Tornando quindi al campionato di eccellenza Veneta-Girone A, Albignasico deve volare basso, l'abbiamo detto, anche il presidente Fabio Cecchinato lo dice spesso e volentieri, noi vogliamo salvarci, però l'appetito vi è mangiando, e se continuate a mangiare così... Sì, no, ma ripeto, lì c'è un gruppo particolare che sono... Ecco, una cosa che a me piace molto dell'allenatore della prima squadra nostra è la tranquillità. Cioè anche nei momenti difficili lui ha una grandissima serenità che secondo me lo trasmette anche alla squadra, quindi la squadra gioca serena, senza l'assillo della vittoria, del pareggio, e quindi secondo me quello è un dato molto importante ed è una cosa che secondo me fa molto bene al gruppo e alla squadra. Il pubblico albignase che è, secondo te, si sta comportando in maniera consona oppure dovrebbe sostenere in maniera più determinata i propri benemini? Nel passato noi eravamo stati anche in Serie D un po' di anni fa. Certo, ricordo benissimo. Esatto. Dopo c'è stato chiaramente tutto il tracollo e la ripresa. Io sono convinto che pian pianino la gente inizierà a venire allo stadio perché inizia a capire che la società e la squadra stanno facendo bene. E secondo me è anche giusto valorizzare e ringraziare da un certo punto di vista lo sforzo che sta facendo il Presidente. Quindi secondo me anche perché l'amministrazione comunale tra l'altro è molto vicina alla società. Sì, molto vicina, lo sappiamo. Ecco, un'ultima considerazione Massimo lo ricordo ancora per coloro che si mettessero soltanto ora all'ascolto che alleni gli allievi elite che cosa ti senti di suggerire ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di calciatore? Prima abbiamo sentito le parole di Cristian Mora un giocatore che è arrivato anche in Serie B tu invece che cosa... Ma condivido molto quello che diceva Cristian perché secondo me è una questione proprio mentale. Io sono totalmente convinto ma ci sono insomma tante storie che lo dimostrano che se una persona vuole qualcosa nella vita la riesce ad ottenere. è chiaro che ci vogliono sacrifici e crederci fino alla fine e secondo me i risultati si ottengono. Lo dico spesso anche ai ragazzi miei di non farsi così tediare o prendere scorciatoie per arrivare a qualcosa di importante. Bisogna lavorare, sacrificarsi e secondo me dopo qualsiasi sia poi tra l'altro l'obiettivo comunque lo si può raggiungere. Vogliamo ricordare ancora che sei impegnatissimo nel sociale l'hai detto prima però voglio che tu lo ricordi. Ma è una cosa che fa bene principalmente a me. Io quando vado in ospedale dai bambini torno a casa gratificato anche se chiaramente l'ambiente è molto pesante ci sono grossi problemi però torno a casa con una serenità che mi aiuta per tutta la settimana. Una sorta di patch Adams. Sì, noi siamo proprio un gruppo che viene da patch Adams. Non facciamo salti mortali non facciamo niente di particolare andiamo per portare un sorriso un po' di serenità in ambienti un po' particolari come sono gli ambienti della pediatria e ripeto principalmente fa bene a me qualche volta racconto anche ai ragazzi prima di una partita la fortuna che hanno loro e quindi spero che questo possa essere utile anche a loro per crescere in una maniera un po' che si possa dedicare agli altri bastano anche dieci minuti però secondo me è una cosa che ripeto serve molto come serve molto quello che facciamo con l'Albignasico con lo Sport 21 perché io ricordo sempre una cosa bellissima che anzi due una che la prima volta che siamo andati a fare allenamento con questi ragazzi e ci aspettavano fuori per portare dentro le borse dei ragazzi miei e dopo una cosa che credo che non succeda mai nel calcio che il portiere dello Sport 21 ogni volta che prende gol ride e lui è più contento quasi quando prende gol che quando pare per lui è una grande esperienza ecco esatto grazie grazie a Massimo Zanetti mi raccomando amici dell'Albignasico tutti allo Stadio Montagna domenica per questo match è molto importante contro il Montecchio Maggiore